Il 26 di questo mese inizia un corso di formazione progettato e finanziato dal Centro di Servizio Vivere Insieme presso i Salesiani della Spezia, dove c'è l'oratorio, che è un corso per persone che possano poi intervenire, quindi volontari che possano poi intervenire, per insegnare il metodo musicale, che non è soltanto la musica, ma è uno strumento, quindi la musica diventa un alveo di comunicazione anche per persone con disabilità, persone con ragazzi, soprattutto con disagio, e stranieri. Ci sono molte barriere nella nostra società, culturali, lessicali, la musica unisce fondamentalmente questi mondi e quindi abbiamo pensato, appunto, come Centro di Servizio di affidare alla cooperativa Bequadro, che già gestisce un progetto della fondazione per quello che riguarda i bambini e la musica, e inizierà appunto il 26, chi volesse partecipare a questi corsi è ben accetto, insomma. Questa iniziativa ha il fine di formare educatori e volontari, o comunque chiunque voglia avvicinarsi al poter rapportarsi con i ragazzi attraverso la musica. Il fulcro di questi incontri saranno il linguaggio non verbale e quindi poter utilizzare proprio la musica per avere un contatto, diciamo, privilegiato che vada oltre a quello, chiaramente quello verbale a cui siamo più abituati, diciamo. Proprio per questo gli incontri saranno per gran parte, in gran parte incontri pratici, in cui si andranno a vedere delle attività con le quali interagire con i ragazzi.